Partiamo dal rinvio, dalla scelta della federazione e del comitato regionale di far slittare di una settimana tutti i campionati per garantirne alla regolarità una scelta assolutamente condivisibile. Giustissima, penso che sia la scelta migliore che potessero attuare. Venivamo da una sosta, allungare la sosta di una settimana, penso che non ha creato problemi a nessunissima società. E poi ha contribuito alla regolarità del campionato perché altrimenti si dovranno fare recuperi settimanali dove parecce società in promozione hanno giocatori che lavorano, come organizzazione non era facile. C'è comunque il rischio anche per il prossimo weekend di poter avere qualche altro rinvio visto che le temperature stanno restando su climi polari. Sì, per quello che dice il meteo sarà un altro weekend di freddo assoluto con neve. Spero che sabato si possano giocare tutte le partite regolarmente perché altrimenti non iniziamo più. Però se ci sono le condizioni di poterle disputare è bene che si facciano, ma se è un tempo come quello dello scorso weekend penso che sia opportuno fermarlo di nuovo il campionato. Perché visto pure in casa nostra col Salernum che era un tempo non accettabile per una partita di calcio, si è vista una buona partita con due squadre che volevano fare ma non potevano fare a causa delle condizioni meteorologiche. Per quanto riguarda il campo o meglio la classifica siete ritornati in vetta a tavolino. Era attesa la decisione relativa alla gara tra Scafatese e Sanseverinese. È stata confermata la vittoria a tavolino per la Scafatese che torna di nuovo in corsa per i playoff e la Sanseverinese invece lascia il primato a voi e alla Calpazio rendendo ancora più interessante questo primissimo scorcio di giro e di ritorno. Diciamo che era una decisione che aspettavamo tutti da tempo perché era una posizione regolare che si sapeva quindi era logico lo 0-3 a tavolino. Per quanto riguarda il primo posto forse sarò il retorico, forse qualcuno riderà quando sentirà le mie parole. Penso che sia frutto di un lavoro che stiamo facendo io in prima persona con la società alle spalle, con lo staff tecnico che parte da Luglio. E' una cosa che non ci aspettavamo sicuramente. L'abbiamo avuto a tavolino, diciamo che va bene così perché comunque è sempre bello stare i primi. Non mi aspettavo che al fine di giro ne sia andata, nonostante questa penalizzazione stavamo là sopra tra le prime tre, diciamo, perché è un punto di differenza, due punti. Quindi è una partita, diciamo, non è che cambia tanto. Però siamo contenti perché si vede che abbiamo lavorato bene, abbiamo integrato bene dei giocatori nuovi che sono venuti, abbiamo rafforzato un gruppo. Il progetto è sempre lo stesso, non cambia perché gli obiettivi non si possono cambiare camminando, strada facendo, si programmano. Avevamo un obiettivo iniziale che lo stiamo raggiungendo, una volta raggiunto questo obiettivo ne continuiamo per la nostra strada. Sicuramente non ci tireremo indietro a qualsiasi ostacolo che intoneremo. Come avevate spesso annunciato sia tu, sia il Presidente, sia Mister Ferullo, la Rocchese sarebbe tornata sul mercato qualora vi fosse stata l'occasione per poterlo fare. Due calciatori svincolati da questa sera fanno ufficialmente parte della Rocchese. Presentali. Sì, sono due under, uno è Vincenzo Califano che viene dalla Scafatese, l'anno scorso ha giocato in eccellenza là. Stava senza squadra, ha chiesto di allenarsi con noi perché sapeva di un progetto giovane, si è trovato bene. Abbiamo ritenuto che è un ragazzo per bene, ci può dare una mano, una mezzala, un centrocampista esterno. È un 98, ha tanta forza, ha tanta voglia di giocare, quindi siamo contenti di averlo preso. Poi abbiamo preso Albano, Antonio, un attaccante del 97, stava con la Nocerina, un trascorso importante col Benevento, col Sorrento. Un ragazzo che se ne parlava bene, doveva fare altra carriera, un brutto infortunio l'ha fermato. Gli abbiamo messo il prof a disposizione, Pellegrino, che è stato incomiabile in questa fase. L'ha rimesso a posto e ha chiesto di finire il campionato qua con noi, anche per rilanciarsi un po' a lui. Si allena con voi Gerardo Franza, che si è svincolato a dicembre dall'Alfaterna. Al momento non c'è ancora possibilità, o comunque non c'è possibilità di vederlo in maglia rosso-blu. Sì, Gerry è un amico di vecchia data. Abbiamo fatto parecchie battaglie insieme sui campi direttantistici. Oltre che un ottimo giocatore è un amico di una vita. Lui sta qua, si sta allenando. Si potrebbe creare anche la condizione per lui, perché Gerry, al di là del calciatore, è un ragazzo serio, un ragazzo per bene, un ragazzo che fa gruppo, un ragazzo che può dare una mano a questi giovani, perché poi alla fine, come vedi, sono tutti ragazzini. Tolti quei 7-8 grandi che ci stanno, poi l'età media è molto bassa. Se a lui fa piacere, noi siamo a disposizione. Quindi non ha una porta chiusa, anzi, ben venga. L'esperienza in questo caso ci può solo aiutare a crescere.